Emergenza Covid nei luoghi di lavoro. Dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio di quest'anno sono state denunciate in provincia di Como all'INA il quasi 2400-2398 per la precisione infezioni di origine professionale che in quattro casi hanno portato al decesso. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di operatori sanitari che su tutto il territorio nazionale hanno pagato il prezzo maggiore dall'inizio della pandemia. In base ai codici a teco delle attività su scala regionale si è registrato il 74% delle denunce tra le professioni sanitarie, il 7% tra le imprese manifatturiere, il 4,6% nelle società di servizi alle imprese di noleggio, il 2,1% tra il settore alloggio e ristorazione, l'1,4% tra la pubblica amministrazione, sempre l'1,4% nel trasporto ai magazzini e il 9,5% viene identificato come altro che comprende anche tutto il personale scolastico. È la fotografia dell'INA il che emerge dal 14esimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19. Sul territorio comasco sono le donne ad aver pagato il prezzo maggiore con 1.803 casi denunciati contro i 595 tra gli uomini. Ben oltre la metà dei casi ha riguardato lavoratori under 50, 479 fino a 34 anni di età e 929 nella fascia d'età tra i 35 e i 49 anni. Vi sono stati poi 963 casi tra i 50 e i 64 anni e 36 oltre i 64 anni. I mesi peggiori della pandemia sono stati marzo e novembre 2020 in concomitanza dunque con i picchi della prima e della seconda ondata.